delle loro famiglie e dalle necessità di estendere la qualità dell'offerta formativa su tutto il territorio nazionale per un segmento così fondamentale. La specifica delega sulla formazione iniziale e la selezione del personale scolastico consentirà di realizzare un sistema molto più efficace di quello attuale. Vogliamo un sistema che sviluppi le competenze professionali e un costruttivo rapporto tra università e scuola perché per fare l'insegnante non è sufficiente il sapere, è necessario il saper fare affinché le conoscenze teoriche si integrino con la pratica del tirocinio. Abbiamo posto le condizioni perché entro la legislatura il meccanismo delle assunzioni torni in equilibrio riducendo in pochissimi anni il precariato a numeri fisiologici. Da adesso in poi si può lavorare per un accesso programmato nelle funzioni docente che nel profilo sia coerente con la scuola e l'autonomia che abbiamo disegnato e nelle quantità non ci ricacci nel pantano di precarietà figlio degli errori del passato. In attesa le nuove modalità vadano al regime, non ha senso immaginare nuove forme di transitorietà come richiesto dagli onorevoli interpellanti. Sarà sufficiente eventualmente procedere con il TFA e un ulteriore concorso per i soli abilitati. Grazie. L'onore Luigi Gallo ha facoltà di dichiarare se si è soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Grazie Presidente, non sono soddisfatto. Sottosegretario Faraone, lei e il Ministro correte a farvi intervistare su tutte le testate giornalistiche con la solersia di un pompiere che va a spegnere gli incendi. Il fuoco che divampa è però quello della distruzione della scuola pubblica e statale è il fuoco del malcontento di genitori, studenti, lavoratori su tutto il territorio nazionale. Io non so se a lei scrivono, sottosegretario, oppure se lei legge la posta o spedisce solo le mail di propaganda insieme a Renzi e ai docenti, ma i genitori delle scuole elementari, medie e superiori si lamentano di un problema grave. Sono mesi che i loro figli cambiano continuamente gli insegnanti, i loro figli girano di classe in classe. Questa non è scuola pubblica, ma diventa un baby parking se lo Stato non riesce a garantire la continuità dell'azione educativa e la sua qualità. Avete promesso di abolire le supplenze e non è accaduto. Ve lo facciamo notare e rispondete che le supplenze scompariranno al regime fra tre anni. Spostate sempre più in là il traguardo, ma credete che gli italiani siano fessi? La propaganda non è solo un'arma di distrazione di massa, la propaganda può uccidere. Ha ucciso un pensionato che aveva messo i suoi risparmi in banca etrure, uccide i cittadini colpiti dal dissesso idrogeologico ed uccide quando si spendono 1,6 miliardi di euro per appaltare a cooperative e ditti amiche le pulizie delle scuole e le tinteggiature mentre i soffitti crollano. Nel 2015-2016 i contratti a tempo determinato, le supplenze, sono diminuiti impercettibilmente, l'ha detto anche lei, sfiorando quota 100.000. Cioè ad oggi diamo ancora 100.000 supplenze, riusciamo a fare due conti? Ha detto che in tre anni verranno assunti 90.000 persone, ne abbiamo solo oggi 100.000 supplenze, avremo nei prossimi tre anni, mediamente come accade in tutti gli anni, 20.000 pensionamenti, ci sono 60.000 supplenze che resteranno ancora se sono solo 20.000 i pensionamenti. Visto che si afferma anche che questi pensionamenti aumenteranno, avremo il solito problema italiano con supplenze ogni mese e che cambiano e i figli e i genitori che si trovano senza continuità didattica. Colpa di una programmazione di questo Governo punitiva nei confronti dei lavoratori della scuola, che ha lavorato a creare una nuova classe di esodati, che non potranno accedere né a contratti a tempo indeterminato, né a tempo determinato, su posti vacanti e disponibili. Dopo aver investito metà della loro vita per gli studenti, firmato pagelle, svolto esami di Stato e dopo essersi formato con i corsi che voi, al Governo, avete indicato e programmato. Da 1 settembre 2016 non si possono più fare contratti annuali a chi arriverà a accumulare 36 mesi di servizio, 120.000 docenti abilitati, sommati ai docenti di terza fascia, che si trovano nella stessa condizione, sommati al personale scolastico, agli educatori, al personale ATA che voi continuamente dimenticate, saranno letteralmente sbattuti fuori dalla scuola. Un'ecatombe sociale. Lo prevede la legge 107 al comma 131, che abbiamo tentato di modificare nei mille proroghe, ma il PD ha sceleratamente bocciato il nostro amendamento. Ma lei, sottosegretario, non si rende conto che ciò porterà ad un blocco totale delle scuole perché i dirigenti non avranno personale a cui attingere per poter fare un contratto di supplenza secondo le norme previste. Questa è la scuola di qualità, la buona scuola del PD. Bene. Ciò che è assurdo, poi, è che nella vostra scuola di qualità si butta un docente abilitato con almeno tre anni di esperienza e si prende un cittadino non formato e con nessuna esperienza ad insegnare senza che abbia superato alcun concorso. Succederà il primo settembre 2016. Una fase di reclutamento che tutela gli abilitati va individuata dopo il concorso. Avete fatto 87.000 stabilizzazioni, metà di quelle che avete annunciato, e le supplenze sono ancora 100.000. Vi rendete conto che avete fallito, che dovevate prima rispondere al fabbisogno della scuola e ridurre le classi pollaio o classi corridoio, perché ormai i nostri studenti studiano anche in corridoio? Invece siete riusciti a trasformare un professionista, il docente, in un tappabuchi che passa la sua giornata a fare supplenze brevi in tutte le classi. Questi non sono inconvenienti di un anno di transizione. Il concorso ha il ritardo di due mesi e sembra sempre più difficile che il Governo riesca a portare i nuovi docenti in aula al suono della prima campanella di settembre. Sottosegretario, noi non facciamo il tifo contro il concorso. Ci mancherebbe. Siete voi al Governo che siete incapaci di programmare, incapaci di rispettare i tempi. Con le classi di concorso avete raggiunto il massimo dell'incompetenza. Richiedete di improvviso esami in più all'Università, programmi totalmente differenti dalla disciplina che in questi anni i docenti hanno insegnato e sulle quali si sono formati concorsi predisposti dallo Stato. E ci leggine, sulla torta avete subito la clomorosa bocciatura del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sulle prove del concorso e i punteggi che attribuite. I docenti di sostegno che supportano l'integrazione di diversamente abili, un ruolo così delicato, la cui instabilità può causare traumi e scompense agli alunni disabili, non saranno sufficienti perché non avete programmato adeguati corsi di abilitazione e formazione con 60 mila professionisti ancora necessari. Ci saranno meno persone che verranno al concorso dei posti disponibili. Questo succederà. Potremmo pensare che i dirigenti scolaci si siano almeno contenti della riforma del Governo. E invece troviamo dichiarazioni sulla stampa di presidi che non sanno dove sbattere la testa in questo caos che avete generato. I docenti della scuola delle infanze e nelle graduatorie di esaurimento e tutti gli altri docenti che non avete assunto nelle GAE sono ibernati in un universo senza spazio e senza tempo, senza conoscere quale sarà il loro futuro, come potrebbero organizzare la loro vita personale e lavorativa. I docenti delle infanze sono appesi al filo della vostra riforma 06 sotto la scura di una privatizzazione del settore che voi eseguite con il cinismo di un broker finanziario. Siete riusciti a discriminare anche nella mobilità straordinaria che avete previsto per quest'anno, decidendo a tavolino che quelli assunti nella fase 0 A e B hanno meno diritto degli altri. Voi state agendo contro la scuola della Costituzione e la scuola della Costituzione agirà compatta contro di voi, arrestando la vostra arroganza e mandando a casa il vostro dannoso Governo insieme alle riforme costituzionali che vogliono un uomo solo al potere. La scuola della Costituzione voterà no al referendum sulle riforme costituzionali. Sarà la fine di un periodo buio del nostro Paese. Grazie. Passiamo all'interpellanza urgente numero 2.246 dei deputati Costantino ed altri concernente elementi in merito al funzionamento dell'attività svolta dalla Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanea e Periferia Urbana del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. L'On. Costantino può illustrare la sua interpellanza a 15 minuti. Grazie, Signor Presidente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, numero 171, è stato emanato il regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli uffici della diretta collaborazione